Ciao ragazzi, sono Soleile, benvenuti in questo nuovo video. È appena finita la partita tra Juventus femminile e Fiorentina, è finita 2-2. Niente, così. Non so cosa dire, nel senso... La Juventus ha giocato male, ha giocato tanto male, abbiamo sbagliato tutto quello che potevamo sbagliare, abbiamo regalato i due gol. Cioè, è stata veramente una cosa. Intanto passa un elicottero, vabbè. Comunque, alla fine ci portiamo a casa il pareggio, giusto. Al contrario di quello... cioè, almeno di quello che ho sentito dire, hanno detto appunto quelle delle telecroniste di La Sette. Io guardavo su Juventus TV, però ho sentito, insomma, che alcuni hanno detto che stavano dicendo che la Fiorentina meritava. No, assolutamente no. Se guardiamo i tiri in porta, hanno segnato sugli unici due tiri in porta che hanno fatto. Tra l'altro, colpa nostra in entrambi i casi, perché nel primo caso Aprile esce male, con la palla tra i piedi. Guarda a Giacinti e gliela dà. Cioè, gliela dà a Giacinti e poi rimane lì, tipo, 10 secondi buoni a guardarla, senza neanche ripiegare in porta. Vabbè, ovviamente lì è arrivato l'1-0 della Fiorentina. Poi è arrivato anche il 2-0 su una deviazione di Gama. Praticamente un tiro che non andava da nessuna parte di Neto, mi sembra. Praticamente Gama fa una deviazione che spiazza completamente Aprile e fanno il 2-0. Prima della fine del primo tempo segna Cernoia. Gol stupendo. Cioè, da sinistra tira da fuori area. La palla scende e si infila nell'angolino destro. Nel secondo tempo arriva anche il 2-2. Con Caruso, praticamente, palla recuperata da Lenzini. Allargata per Irinen. Irinen crossa in mezzo. Caruso al volo. Tira in porta e fa gol. Il che è sorprendente perché fino a quel momento Caruso per me a centrocampo era stata la peggiore. Nel senso, non ho visto bene neanche le altre, devo essere onesta. Sì, Cernoia sì. Però non ho visto bene neanche Rosucci. Però Rosucci comunque lottava, si sbagliava, provava a riprendere il pallone. Caruso l'ho vista un po' spenta oggi. Eppure lei ci permette appunto di pareggiare. Non bene neanche in difesa oggi, però vabbè. A parte Lenzini, Lenzini ha fatto benissimo. Nilden oggi non era tanto in giornata. Ha fatto qualche intervento buono in difesa, però ha perso una valanga di palloni. Quindi aprile secondo me è peggiore in campo. Mi dispiace, però è peggiore in campo. Per tutta la partita ha fatto uscite a caso e con i piedi veramente terribile. Quindi aprile è oggi peggiore in campo, veramente. In avanti non sono state tanto meglio. C'è Bonansea, Urtig e Stascova per me hanno fatto tutte male. Stascova per tre volte poteva tirare in porta perché aveva tutto lo specchio libero. E per tre volte è rimasta lì a pensarci. Si è girata, rigirata, rigirata ancora, ha controllato. E sì che tutta la Fiorentina ha ripiegato. Per tre volte. Poi un'altra volta ha tirato effettivamente. E da due passi l'ha mandata sulla traversa, vabbè. Bonansea, diciamo, tutta la partita non ha fatto per niente bene. Ha fatto un unico lampo. E infatti stavamo per fare il 3-2. Un unico lampo sul 2-2, praticamente. Si fa tutta la fascia, salta l'avversaria. E mette dentro un cross per Bonfantini. E Bonfantini appena è entrata si mangia un gol clamoroso. Cioè gliela tira addosso al portiere. Lì ho sentito il telecronista. Cioè lo adoro. Sidi, che è il telecronista di Juventus TV. Però lì dice grande intervento del portiere no. Lì Bonfantini gliela ha tirata addosso. Lì doveva spaccare la porta. Però vabbè. Urtig ha perso una valanga di pallone. Però non lo so, ha anche ripiegato tanto in difesa. Non mi è comunque piaciuta. Però ha ripiegato tanto in difesa, c'è da dirlo. Sta scopo ve l'ho già detto. Bonansia ve l'ho già detto. Migliore in campo lo darei a Cernoia. Perché le uniche occasioni che abbiamo avuto partivano sempre da lei. O il primo passaggio che partiva da lei. O il recupero palla partiva da lei. Insomma, sempre così. Indietro appunto Nilden non mi è piaciuta. Gamma non mi è piaciuta tanto neanche lei. Spesso non si capiva con le compagne. Spesso mandava indietro dei retropassaggi che non erano proprio bellissimi. Irinen e Lenzini invece sono le uniche due che mi sono piaciute in difesa. Quindi Irinen, Lenzini e Cernoia secondo me le migliori tre. Cioè le uniche che hanno fatto veramente una grandissima partita. E poi Caruso si prende la sufficienza giusto perché ha fatto il gol del pareggio. Va bene ragazzi, va così. Lo sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. La Fiorentina è vero che ne ha prese sei dal sassuolo. Ma ragazzi, non prendiamoci in giro. La Fiorentina, per la Fiorentina la partita dell'anno è sempre quella con noi. Cioè a loro veramente non gliene frega niente di tutte le altre partite. La Fiorentina non lotta per niente quest'anno. Perché è troppo forte per lottare per la salvezza. Ma non è abbastanza forte per lottare per il secondo posto. Quindi la Fiorentina quest'anno non lotta per niente. La partita più importante è quella con noi per loro. Lo sappiamo, è così. Perciò sapevamo appunto che sarebbe stato difficile. Alla fine sono abbastanza contenta per il pareggio. Proprio perché le nostre oggi hanno sbagliato l'impossibile. Quindi per come si era messa non avevo paura della beffa. Perciò vabbè. Niente, sempre fino alla fine forza Juventus. In questo caso Juventus Women. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi.